ben trovate goccioline adorate innanzitutto auguri tanti auguri ancora per questo 2023 poi vorrei chiedervi scusa per la voce che ancora è piuttosto manchevole inizio però subito cercare di farmi perdonare facendo il riassuntino ritorniamo alle origini della prima live del 2023 cominciamo allora dura un'ora circa ed è sempre il duo tragicomico ad alternarsi sulla scena c'è lui che sembra come al solito preoccupato preoccupato perché è chi ci sarà il live chi ci sarà fortuna 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 li abbiamo trovati qualcuno c'è chi c'è chi c'è chi c'è bene ci sono queste persone parlano e che dicono lui ci prova a farli parlare con le solite domande allora che mi raccontate che avete fatto oggi tu prepararti una cosa no è no 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 e poi sia mai ti facciano una domanda che avete mangiato dove siete stati e lui che lo chiede agli utenti loro non possono chiedere no in realtà chiedono qualcosa chiedono qualcosa a proposito lo chiamiamo sacro graal invece che playstation perché non si può vedere è impossibile io temo che se per caso la faranno un giorno vedere a qualcuno davanti a tutti scomparirà improvvisamente mi sa di sì perché ha una paura comunque andiamo avanti andiamo avanti arriva la sua cerina ed è tanto contenta dice che ha passato dei giorni bellissimi ed ecco che si fa spazio l'altra metà del duo che secondo me si si ha mangiato sicuramente cioè non è c'è stato ma sarà stato a base di yogurt perché in agilità simile nella nonna più amata dagli italiani più amata dal mondo io non l'ho mai vista innanzitutto c'è lei che dice ovviamente ogni scarrafone bella mamma soia che cosa può dire se non quanto sei bello rivolto a suo figlio risposta bella nonna più amata dagli italiani e dal mondo ah vabbè l'importante è che lo pensi tu sto pensando e se lo dicessero a lei signora eh se dicessero a lei una cosa simile a proposito di suo figlio o di sua figlia lei lo troverebbe sempre tanto divertente eh ma è proprio la serata che si dedica così pensa che sia divertente prendere un po in giro la signora daniela perché forse la signora daniela non è dei piani alti come chiama lei quelli del corrispondente perché forse quando pronuncia questa parola corrispondente per un attimo si sente la telegiornalista del secolo ma andiamo avanti andiamo avanti non abbiamo finito chiede con aria ammiccante bene ma allora che cosa avete fatto nel dopo cena giuro è così super giù il tono è del resto lei è una donna dal profumo molto ammaiante sì e arriva il momento che penso sia stato il più basso mai toccato fino ad ora c'è una utente che ci tiene a dire dice sinceramente in modo anche abbastanza normale io ho lavorato la signora scoppia a ridere ma no che lavorato lui improvvisamente come se si svegliasse ad un lungo retargo chiede ma che cosa sta dicendo che succede praticamente ci sarebbe l'utente che fa passare per lavoro il dopo cena giuro io mai ho sentito qualcosa di così becero l'utente risponde semplicemente dicendo signora in questo periodo nel campo della ristorazione è il momento più faticoso anzi se ne va quasi subito perché è molto stanca si scusa la signora ma neanche per idea lei è così vuole ridere vuole divertirsi guai però se voi lo fate con lei infatti ci sarà qualcuno che le dirà qualcosa a proposito ma ne parlo dopo tanto per fortuna dura poco per fortuna dura poco abbiamo ancora il nodo Ratzinger eh sì lo sapete è venuto a mancare il Papa Emerito adesso io non starò a fare l'ipocrita dicendo che mi dispiace tanto anche se lo preferivo a Papa Francesco però io non sono cattolica mentre so che in quella famiglia si sono sempre professati cattolici ma non praticanti del resto qualche giorno fa proprio la nonna più amata dagli italiani e dal mondo se lei dire aveva detto che sì ce l'aveva con un Papa ma Papa Francesco per la mimica che a lei non piaceva mentre preferiva proprio Papa Ratzinger perché era un fine teologo me lo ricordo con precisione perché avevo pensato proprio ma perché non le chiedono che cosa intenda con fine teologo comunque adesso tutto cambiato basta minuti di silenzio stop d'ora in poi non se ne fanno più perché perché Ratzinger no non deve avere una corsia preferenziale non deve avere una corsia preferenziale mentre dunque i filosofi Saneca 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 sì lui no me sa che non funziona me sa no ecco ne hanno trovata un'altra perché non rappresenta la loro guida spirituale eccolo non lo rappresenta oddio e perché che ha fatto no perché è vissuto nello sfarzo e poi praticava predicava la povertà però lui è vissuto nello spazio ecco 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 è questo no non è neanche questo ci tende a dire lei e allora perché perché ce lo stiamo chiedendo tutti perché sto minuto di silenzio non se può fare Papa Ratzinger che ha fatto sto Papa ecco si è dimesso neanche eletto qualcuno fra gli utenti fa notare che in realtà sarebbe stato in carica ben otto anni e pensaci otto anni tu a lavorare dai sogni no 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 vabbè capita capita che uno abbia difficoltà a mantenere un posto di lavoro per carità per carità vabbè alla fine lo dice lei niente è che la verità è che la gente li prende in giro non prende sul serio questo momento di silenzio comunque loro non si sentono rappresentati e lei vuole avere tutta la libertà di dedicare i suoi minuti di silenzio a chi le pare a chi non le pare sì però almeno la prossima volta non rompete le scatole con il Natale che si deve festeggiare e tutte le feste e la Pasqua che è importante tutte queste cose perché sarebbero tutte cattoliche ce le ricordiamo quando ci conviene comunque siamo finalmente quasi per finire abbiamo liquidato anche suo Papa con un tra le altre cose un popi popi papi papi a lei sembra divertente ma lei lo sappiamo si diverte con così poco fatela divertire un altro po' lui decide di chiudere con l'ultima perla del resto ce l'aveva comunque già un po' accennato che sì c'è l'epifania ma è una festa l'epifania vuol dire che è abituato a non mangiare chissà che e non avrà mai ricevuto chissà quali regali ecco ritorniamo che cosa ha detto un utente che li aspettava perché sono ridicoli credo sia la chiusa definitiva e la più adeguata perfetta quindi per oggi vince questa utente che ha detto la verità che non può essere accettata non mi ricordo il nome comunque cerca di capire non può essere accettata la tua critica ovviamente viene bannata c'è bisogno che ve lo dica io vi ringrazio tanto vi auguro ancora un felice 2023 vi ringrazio per essere stati in mia compagnia vi chiedo ancora scusa per la voce che non è al suo meglio ci vediamo presto e baci 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 bann bann